Sui campi flegrei resta l'allerta gialla. Lo scatto a quella arancione non è all'orizzonte, ha precisato il ministro della protezione civile Nello Musumeci, ascoltato in commissione ambiente della Camera dei Deputati, dove è in corso l'iter di conversione del decreto campi flegrei. Nel vertice convocato a Roma con i sette sindaci dell'area flegrea, la regione Campania, la prefettura di Napoli, il capo della protezione civile e l'osservatorio Vesuviano e la commissione Grandi Rischi, Musumeci ha precisato che per la prima volta il ministero ha avviato la definizione del piano del rischio bradisismico, mai eseguito in precedenza. Si tratta di un primo passo che delimita una zona rossa bradisismica con circa 85.000 abitanti, che comprende porzioni dei quartieri Bagnoli, Soccavo, Fuorigrotta, Pianura e Posillipo a Napoli e altre porzioni di territorio ricadenti nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. In questa stessa area insiste un numero di quasi 15.000 edifici sui quali sarà subito avviata l'azione di monitoraggio e di verifica tecnica. Insomma, acceleratore premuto sulla ricognizione della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati dell'area rossa, a cominciare dalle scuole. Nell'area delimitata ricadono ben 125 istituti.